Oramai comincia a esserci una storia tra Papa Francesco e il vento. Fa da cornice ai viaggi più importanti che ha fatto. Di recente c'è il viaggio negli Stati Uniti d'America. Ma sia quando viaggia nel Vaticano in piazza San Pietro tra la gente e soffia il vento e gli manda il suo abito tutto in vista, sia in altri momenti, bisogna ricordare il Vangelo di Giovanni 3. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Sembra che lo Spirito ce l'abbia con sua santità e gli voglia togliere o incappucciare la testa. Perché? È un segno? Questo illuminato Papa forse sta indispettendo lo Spirito Santo? In verità, che ne direste voi se ancora per poco esiste il Signore qui sulla terra, ma egli si dedica a tutt'altro, tranne che al Signore che è ancora qui sulla terra in un povero Cristo fino al prossimo 26 luglio del 2016, che egli stesso, illuminato da Dio, ha eretto a anno santo speciale della misericordia di Dio. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce. E tu resti senza la tua papalina? Ma sembra proprio vero. Tra il vento che soffia dove vuole e dove va e sua santità, sembra esserci un discorso aperto. Eccolo mentre rischia di cadere per il vento nell'ultimo viaggio fatto a Nueva York. Voi dite, è mai possibile che proprio questo Papa Francesco, così aperto agli umili, ai poveri, non sia sensibile alla presenza del Signore? Il Signore vorrà essere pietra di inciampo per questo Santo Padre che, pur conoscendo bene il Vangelo, e in particolare il Vangelo secondo Matteo, nel giudizio finale, espresso dal versetto 31 in avanti, che io vi leggo. Quando il figlio dell'uomo verrà nella sua maestà, accompagnato da tutti i suoi angeli, allora si siederà sul trono di gloria, e davanti a lui saranno condotte tutte le genti. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra, i capri, invece, alla sua sinistra. Allora il Re dirà a quelli che stanno alla sua destra, Venite, benedetti dal Padre mio, prendete possesso del regno preparato per voi sin dall'origine del mondo, poiché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, ero pellegrino e mi ospitaste, nudo e mi copriste, infermo e mi visitaste, ero in carcere e veniste a trovarmi. Allora i giusti diranno, Signore, quando ti vedemmo affamato e ti demmo da mangiare, assetato e ti demmo da bere, quando ti vedemmo pellegrino e ti ospitammo, nudo e ti coprimmo, quando ti vedemmo infermo o in carcere e venimmo a trovarti. E il Re risponderà loro, In verità, vi dico, tutto quello che avete fatto a uno dei più piccoli di questi miei fratelli, l'avete fatto a me. Quindi dirà a quelli che stanno alla sinistra, Andate via da me, o maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e i suoi seguaci, poiché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, Ero pellegrino e non mi ospitaste, nudo e non mi copriste, infermo e in carcere e non veniste a trovarmi. Allora risponderanno anche loro, dicendo, Signore, quando ti vedemmo aver fame o sete, essere pellegrino o nudo, infermo o in carcere, e non ti abbiamo servito. Allora risponderà loro, dicendo, In verità, vi dico, ciò che non avete fatto a uno di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. Ecco, cari amici, voi vi dite, ma proprio Papa Francesco, che è così aperto verso tutti questi poveri e va lì da ciascuno a far sentire la sua voce, proprio lui è costretto così a inciampare per il vento, per lo Spirito Santo inciampa, proprio in quest'ultimo viaggio fatto nella nazione più grande del mondo in cui è andato a dire non dovete uccidere. Amici, quando un poveretto, illuso da un Papa che aveva detto rischiate di tutto volentieri per tutto ciò che è bello, buono e santo al fine di superare l'emarginazione nel vostro tentativo di aprire un nuovo percorso razionale, filosofico verso la verità di Gesù Cristo e un cristiano lo apre questo percorso e deve solo portarlo a Pietro, ma per lui sono chiuse le porte del Vaticano, le quali porte sono aperte a tanti grandi personaggi che transitano per Roma. Ci sono i capi di Stato, ci sono i capi delle varie congregazioni, ci sono i capi dello sport, dello spettacolo. Insomma, ci sono tutti i capi che passano per Roma e sono invitati in una seduta particolare con Sua Santità. Si sente molto importante Sua Santità e si concede ai capi, alle folle osannanti, ma quando uno che era stato stimolato a rischiare volentieri per tutto ciò che era bello, buono e santo, aprire la conoscenza delle ragioni per cui Gesù Cristo è da seguire, per le sue ragioni e non tanto per quei miracoli che compì, perché lo disse, tempo verrà in cui ne faranno superiori ai miei e accade oggi, signori, quando a un ammalato di cuore gli è messo un cuore nuovo, quando a uno senza braccia sono trapiantate le braccia da un morto, quando la fede in ciò che ha detto Gesù è poggiata su questi miracoli, oggi l'uomo è in condizione di non prestare più grande fede a quelle cose che fece Gesù, una tantum, quando Dio voleva, perché ora basta andare da un medico e egli ti aggiunge giorni alla tua vita, mentre Gesù diceva che era impossibile, chi è in grado di aggiungere un giorno solo di vita alla sua vita e Gesù sembra essere contraddetto, sembra essere proprio messo giù da tutta la scienza di questo mondo, chi può difendere Gesù? Chi ha fede in lui perché fece queste cose grandiose che non sono più giudicate grandiose al giorno d'oggi perché l'uomo ne vede fatte di più grandi ancora e senza bisogno di chissà che cosa basta andare da un medico che ti dà un antibiotico e la tua malattia se ne va ecco e allora uno mandato a affrontare il rischio di restare emarginato che è emarginato proprio da sua santità e comincia a digiunare si mette come pecorella smarrita nelle mani del buon pastore è considerato forse un nemico la sua vita è messa nelle sue mani non è un nemico uno che ti mette la sua vita nelle tue mani ma ecco che proprio lui è considerato nemico da una santità che per eccesso di santità mette in condizione questo poveretto di digiunare per lui 81 giorni senza degnarsi mai nemmeno di dirgli alcunché e per quale mai ragione perché era un poveretto era uno secondo lui cui qualche rotella mancava e allora questa santità così valida non ha pensato di sostituire le sue rotelle che giravano bene in soccorso di costui che se non avendo le rotelle che gli giravano bene aveva bisogno proprio lui di aiuto uno che così palesemente a giudizio del papa nel torto e digiuna e mette nelle tue mani la vita tu lo lasci morire santità perché poi te ne vai negli stati uniti a dire che deve essere abolita la pena di morte quando questo poveretto se fosse dipeso da te lo avresti condannato a morte nel peggiore dei modi perché se un assassino è catturato e è sottoposto a giudizio può anche meritarsi che Barabba sia ucciso ma un povero Cristo che mette la sua vita nelle mani del pontefice è mai possibile che il pontefice decida di disprezzarne a tal punto la vita perché è piccolo è uno solo non conta nulla essendo uno solo ma santità Gesù non disse che il vero primo non fa valere il suo primato si comporta come Dio scende al di sotto del più piccolo che ci sia e lo sorregge chi è il più piccolo che ci sia se non chi è riconosciuto talmente povero di spirito da mettere nelle tue mani la sua vita ecco il giudizio di Dio voluto per questo papa che si dimostra così santo ma lo fa pensando che il suo compito è di parlare alle folle è di parlare ai capi di stato e di parlare ai suoi simili perché egli si intende simile a un re ma il povero Gesù Cristo non venne come un re venne come un re che non era re di questo mondo tanto che nessuno accorse a salvarlo il vero re di questo mondo è proprio chi è sottoposto a fame e è lasciato affamato per poter dire poi correggendo attraverso lo spirito santo proprio chi ha questa importante funzione tu caro amico procedi con la tua ragione ma cerca di farti aiutare dallo spirito santo perché con il tuo comportamento di rivolgerti solo a coloro che tu intendi validi e pieni di spirito e trascurare proprio quei poveri di spirito che riconosci non ne hanno non stai compiendo veramente e fino in fondo la volontà dello spirito santo lo spirito santo vuole che tu ti metta sotto a servire e visto che lo spirito santo è entrato in questo mondo e si è messo proprio così come ha detto san matteo avevo fame e non mi hai dato da mangiare quando signore quando un povero Cristo stimolato da un Pietro a rischiare volentieri di tutto pur di superare l'emarginazione è stato tenuto emarginato affamato e lontano da Pietro ecco in lui c'era lo spirito santo perché tutto quello che è fatto a uno dei più piccoli e ritenuti più miseri e insignificanti che esistano in questo mondo dice il signore è stato fatto a me Matteo capitolo 25 versetto 41 poi dirà a quelli alla sua sinistra via lontano da me perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare anch'essi allora risponderanno signore quando mai ma egli risponderà in verità vi dico ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli non l'avete fatto a me in verità vi dico non l'avete fatto a me non significa in verità vi dico è come se voi lo aveste fatto a me no si legge non lo avete fatto a me e per togliere di mezzo ogni dubbio lo spirito santo è venuto proprio in un povero cristo stimolato da un papa ad aprire un nuovo percorso e che è stato maltrattato dall'autorità religiosa esattamente come accadde già un tempo da parte di caifa che fece fuori il cristo ecco il signore ha trattato allo stesso modo l'autorità cristiana così come a suo tempo trattò quella ebraica perché chiunque non veda in un piccolo la persona esatta di Gesù non merita di essere messo così in luce come una grande persona specie se è un cristiano che conosce il Vangelo e che conosce questo brano di Matteo 25 dovrebbe sapere che Gesù in verità ha detto che ogni volta che non è stato fatto a un piccolino questo servizio di aver cura di lui e invece lo si è lasciato digiuno per 81 giorni ma non perché poi si è intervenuto un pentimento semplicemente perché è intervenuto Dio a impedire un sacrificio ancora più grande ecco questo Pietro ha ucciso per fame un povero Cristo che si era messo nelle mani di Pietro e non stupitevi che è così che il Signore tratta Pietro già nel tempo di Cristo mise in condizione proprio Pietro di essere colui che lo aveva rinnegato per tre volte io non lo conosco eccolo l'aiuto dato a Pietro proprio affinché trattato nello stesso modo di quel Pietro questo Pietro che è così sensibile sia in grado poi di quella rivoluzione di tutti i suoi valori per essere il nuovo Pietro di un nuovo modo di essere Pietro